ciao e bentornato su impara da vinci resolva torniamo oggi a parlare di color page vado ad affrontare oggi uno scopes quindi un grafico di cui non ho ancora parlato all'interno del canale si tratta dell'istogramma grafico conosciutissimo soprattutto per chi è abituato a fare fotografie quindi a scattare o a fare direttamente delle riprese video perché è uno dei tool e quindi dei grafici più utilizzati direttamente in camera per valutare le esposizioni della propria composizione adesso vediamo quanto può essere utile all'interno di un flusso di post produzione nella color page di resolva qui sugli scopes è presente la parade andiamo ad aprire la possibilità di cambiare quindi di switchare il grafico e vado a scegliere l'istogramma quindi istogramma andiamo a espanderlo ok quindi espandiamo gli scopes lasciamo spazio sulla parte di sinistra per quanto riguarda il viewer magari spegniamo le clip e la timeline andiamo in single view sugli scopes in modo tale da visualizzare l'istogramma allora come vedete io di default ho impostato una scala da 0 a 100 cioè da 0 al 100 per cento naturalmente la puoi cambiare quella più utilizzata è quella 10 bit quindi che mi va da 0 a 1023 ti ricordo 10 bit vuol dire 2 elevato alla 10 combinazioni di possibili valori e 2 elevato alla 10 fa appunto 1024 partendo dalla dallo 0 il range va da 0 a 1023 adesso per comodità io ritorno in una scala in percentuale quindi da 0 a 100 e vediamo come si legge l'istogramma di questa clip vedete è diviso di default nei tre colori rgb quindi il rosso il verde e il blu l'asse orizzontale mi rappresenta l'andamento della luminosità e quindi è un po' il contrario di quello che fa l'rgb parade fondamentalmente dove la luminosità è intesa al basso verso l'alto qui si passa dal valore 0 che corrisponde al black al valore al 100 che corrisponde al white quindi già capiamo che questo è uno strumento molto utile per valutare ad esempio il clipping se non ho niente a cavallo dello 0 e non ho niente a cavallo del 100 vuol dire che tutto il range dei valori rgb della mia immagine sta dentro gli intervalli consentiti e pertanto non ho perdita di informazioni e questo è già un grosso punto a suo favore quindi riesco a valutare quanto è luminosa la clip e soprattutto vado a valutare se non ho dei problemi di clipping sulla clip perché parlo di quanto è luminosa una clip perché se l'asse orizzontale mi rappresenta i neri i mezzi toni e le alte luci quindi tutta la gamma tonale partendo da zero e arrivando a 100 sull'asse verticale ho la numerosità dei pixel presenti in quella zona in quella gamma tonale particolare quindi vuol dire che adesso ad esempio nell'intorno dei valori del 10 per cento cerca avrò una grossa fetta di pixel che occupano i rossi che occupano i verdi e che occupano i blu vedete sono tutti più o meno allineati vuol dire che avrò delle aree quasi totalmente monocromatiche sulle basse luci adesso per comodità aggiungo un nodo seriale quindi faccio alt option s lo chiamo è un nodo di test quindi lo chiamo test molto bene adesso lo teniamo attivato se adesso vado sull'offset e aumento l'esposizione della mia clip vedete che ho chiaramente un'immagine sovraesposta ma lo vedo anche dall'istogramma perché ho tutte le curve spostate verso la parte alta mantengo la simmetria quindi un bilanciamento del colore più o meno corretto ma ho una clip decisamente sovraesposta stessa cosa se faccio l'operazione opposta torno indietro area di sottoesposizione quindi clip sottoesposta con perdita di dettagli molto forte sulle basse luci resettiamo l'offset se adesso vado a prendere semplicemente ad esempio la gamma e me la sposto sui rossi succede che si sfasa la simmetria cioè non ho più una struttura simmetrica nelle tre curve i rossi sono decisamente più alti quindi se sono più alti la immagine avrà un casting di colore che virerà sul rosso questa cosa la posso anche evidenziare dal grafico andando ad attivare sui tre puntini orizzontali dell'istogramma il display qualifier focus lo vado ad attivare vado ad esempio su un punto scuro della mia immagine e come potete vedere nell'istogramma compaiono delle barre verticali in corrispondenza dei valori di rosso verde e blu su quel pixel sul quale ho cliccato e vedete che il canale del rosso è nettamente più alto rispetto al blu e al verde ma lo vedo anche dai valori rgb che compaiono a schermo quindi l'obiettivo quindi nel fare un po il bilanciamento utilizzando l'istogramma è cercare di fare in modo che ci sia una disposizione simmetrica e che ci sia un'esposizione corretta su tutta la gamma tonale adesso andiamo un attimo nei settaggi dell'istogramma e guardiamo quali sono i settaggi possibili non sono tantissimi abbiamo il gain cioè se ho una curva molto alta ad esempio qui io vedo praticamente clippata la curva questo non vuol dire che perdo segnale è semplicemente che non ho spazio per visualizzare tutto l'istogramma quindi magari vado a diminuire il gain in modo tale da vedere tutta la mia curva quindi il gain a livello di visualizzazione dell'istogramma come vedete il canale del rosso il canale del verde sono molto simili il canale di blu ha una distribuzione leggermente diversa sulle basse luci quindi sulla parte del canale del blu ottengo magari una maggiore varianza se vado a modificare il valore di gratitude che vuol dire appunto il reticolo il reticolo sono queste barre verticali gialle che vediamo quindi le rendo più evidenti o meno evidenti se le uso come reference diventa importante eventualmente a renderle più nitide posso mostrare i livelli di riferimento cioè se ho dei punti di riferimento che per me sono le basi oltre il quale non posso andare nella gestione dei neri e dei bianchi le vado ad evidenziare dei default sono fissate a 0 e a 100 ma posso portarle ad esempio un po più avanti vedete posso portarlo su questo valore al valore pari a 4 ad esempio sulle basse luci e posso portarlo ad esempio intorno al 90 per cento per quanto riguarda le alte luci una cosa molto interessante è il passaggio dall'rgb quindi visualizzo solamente i canali colore all'y rgb cioè visualizzo anche il canale della luminanza vado vado a modificare ad esempio il canale del verde io otterrò vedete una ridistribuzione di tutti i canali aumentando e diminuendo il verde preservando per quanto possibile la luminanza quindi la luminanza non viene toccata ma modifico solamente il bilanciamento dei colori quindi sto preservando la normalizzazione che ho fatto qua andando ad alterare il color balance se però a me interessa spostare solamente il canale del verde lasciare inalterato il rosso e il blu vado a prendere il luminanza mix e lo porto a 0 in questo modo vado a modificare il canale del verde vedete viene cambiata quindi la luma della mia immagine insieme al canale del verde ma non vengono toccati il canale del rosso e il canale del blu quindi magari l'istogramma in combinazione con gli altri strumenti può essere ancora un aiuto maggiore per quanto riguarda la lettura e la correzione di una clippa in grading su Resolve bene se hai delle domande ti invito a farle qui nella sezione commenti di questo video e noi ci vediamo per il prossimo tutorial all'interno del canale Grazie 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 Grazie